Grazie a 4 milioni di euro stanziati dalla regione, a partire dal 2024 i fondi aziendali di Asugi non saranno più ripartiti fra Trieste da una parte e l'area Isontina dall'altra. Viene pertanto a cadere il motivo di scontro fra la direzione dell'azienda sanitaria e i dirigenti medici al centro di una serie di polemiche innescata qualche mese fa ma che si trascinava da qualche anno. L'immissione di fondi da parte della regione consentirà dunque che i fondi contrattuali a risultato, quelli per la reperibilità e quelli per gli incarichi saranno ripartiti allo stesso modo. La soluzione al problema è stata illustrata questo pomeriggio nel corso di un incontro indetto dalla direzione Asugi cui hanno preso parte tutte le organizzazioni sindacali del personale dell'area sanità. Un incontro complesso e dibattuto che Asugi ha valutato in maniera estremamente positiva. L'azienda ha illustrato le modalità attraverso le quali verrà messa in atto la nuova ripartizione e il piano riguarda il 2024 ma per quanto concerne le risorse eventualmente ancora disponibili per l'esercizio 2023 Asugi si è impegnata di incontrare nuovamente le organizzazioni per un'ulteriore analisi di tali risorse e del loro eventuale utilizzo stante il fatto che tale rendicontazione è ancora in via di definizione. Le organizzazioni mediche dal canto loro informalmente si sono dette soddisfatte già che in merito alle nuove disposizioni la nuova distribuzione dei fondi non andrà a penalizzare nessuno laddove per quanto concerne il pregresso la situazione ovviamente non sembra più recuperabile.